Un sacco etnico attraverso la mediazione linguistica e culturale si rivolge alle attività di ristorazione etnica di tre zone della città di Milano con l'obiettivo di comunicare a questi ristoratori le limitazioni introdotte dalla direttiva Single Use Plastics e quindi il fatto che alcuni prodotti non possano più essere messi per caso di un prodotto di plastica non uto con l'obiettivo quindi di migliorare anche la raccolta differenziata di queste attività di ristorazione operiamo con dei mediatori e delle mediatrici di lingua cinese, araba e spagnola questi mediatori hanno incontrato 200 attività di ristorazione su Milano proponendo loro di aderire al progetto al momento ha aderito circa il 20% l'adesione è volontaria quindi per noi è già un ottimo risultato se pensate che parliamo di sostenibilità ambientale con delle attività che sono state duramente colpite dalla crisi economica e lo facciamo anche durante il loro orario di lavoro quindi non è detto che ci diano ascolto con queste attività che hanno deciso di aderire facciamo degli incontri di formazione e informazione il personale di AMSA sempre accompagnato dai mediatori culturali spiega le questioni principali della direttiva Single Use Plastics e fa un'analisi accurata della raccolta differenziata per capire se ci sono delle criticità quali sono e fornire spiegazioni in modo tale che queste attività non debbano ricevere sanzioni in futuro il progetto terminerà a settembre e quindi per allora siamo certi di poter dare risultati più dettagliati Grazie! Grazie!